In un giorno torna l'acqua Messina, l'acquedotto di fiume freddo riparato con un bypass, ma che fosse una linea davvero fragile, lo sapevano tutti. Scienziati cinesi creano un super virus polmonare da pipistrelli e topi, serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare? Per due anni medici e infermieri in scena per combattere la sindrome burnout, lo stress di chi cura e si fa carico delle sofferenze degli altri. Buongiorno dal telegiornale scientifico, una storia intricata, quella della rottura dell'acquedotto che riforniva d'acqua Messina, 21 giorni di rubinetti a secco, dopo la condotta che scende dalla montagna è stata riparata con un bypass. Adesso la portata è di 600 litri d'acqua al secondo, prima erano 900, ma tanniche e autobotti finalmente non servono più, anche se il sindaco avverte fino a domani l'acqua dei rubinetti, consideratela ancora non potabile. Dietro a questa vicenda, che potrebbe sembrare una storia di un semplice guasto a una condotta causata da una frana, c'è invece molta storia, c'è un po' di tutto, compresa tanta acqua dolce che finisce dritta in mare. Lino Bitto. Un acquedotto che corre per oltre 80 chilometri lungo il versante ionico delle province di Catania e Messina, uno dei territori a maggior rischio idrogeologico d'Italia. È un territorio che certamente presenta delle fragilità dovute alle caratteristiche naturali del territorio stesso, cioè alla clività dei versanti, alle caratteristiche meccaniche dei terreni che li costituiscono e anche una fragilità dovuta in parte alle infrastrutture che necessariamente devono essere presenti sul territorio. Naturalmente questa fragilità viene acquita nel momento in cui si manifestano eventi particolari come eventi meteorici intensi o terremoti. Fu una scommessa temeraria quella dei progettisti del fiume freddo che nel 1982 giocarono la carta più azzardata forse proprio a Cala Tabbiano, la piaga dolente della crisi, la causa della incredibile sete di Messina. Una sfida fatta in piena consapevolezza, tanto che in previsione di un cedimento venne persino realizzato un canale di scolo, peraltro mal progettato. Ciò che in molti giudicavano inevitabile è avvenuto alle 10 di mattina del 24 ottobre, dopo due giorni di piogge intense. La frana ha ripreso vigore, la conduttura si è fratturata e su Cala Tabbiano si sono riversati per oltre mezz'ora i mille litri d'acqua al secondo dell'acquedotto, allagando un intero quartiere. Gli smottamenti successivi hanno avuto ragione, delle saldature delle tubazioni fatte in fretta e furia e Messina si è trovata a vivere un incubo imprevedibile. Per tre settimane i rubinetti sono rimasti all'asciutto in molti quartieri. Un terzo della popolazione, 80.000 persone, deve essere rifornita con le autobotti. I bidoni sono divenuti il simbolo di un'emergenza che ha rimandato la città indietro nel tempo e precipitato migliaia di persone nella disperazione. Io sono in queste condizioni, cosa devo fare io per prendere un po' d'acqua? Al pasticcio di Calatabiano si sta ora rapponendo il rimedio attraverso un bypass realizzato con tubi flessibili in Kevlar, indispensabile per far uscire Messina dalla crisi. Un altro bypass è stato realizzato col vecchio acquedotto dell'Alcantara. È venuta così alla luce una pagina confusa e inquietante del capitolo acqua in una regione che soffre la sete in maniera endemica. La struttura venne realizzata negli anni 70 con i finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti. Cassa che successivamente donò l'opera a Sicilia Acque, ente emanazione della regione. L'azienda però affogò letteralmente tra i debiti e venne ceduta ad una multinazionale francese che si trova ora a gestire un bene finanziato dai cittadini. Come se non bastasse, i manager dell'azienda hanno ingaggiato una battaglia con il municipio di Messina chiedendo la riparazione della condotta, ormai fuori uso, interrotta in due punti. Intervento che ovviamente il comune, tra l'altro in stato di predisesto, non può e non vuole eseguire. Risultato, le acque dell'Alcantara, vendute tra l'altro a 69 centesimi al metro cubo contro i nove del fiume freddo, normalmente finiscono in mare. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati. Un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E nesce un super virus che potrebbe colpire l'uomo. Resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio. Ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca, in fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Tedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola, detta SHCO14, che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. La chiamano la sindrome di burnout, sembra depressione, ma in realtà è stress e colpisce chi cura, aiuta e gestisce la sofferenza degli altri. In pratica riguarda in particolare il personale sanitario e quello assistenziale. L'università e la scuola di medicina di Torino provano a curarlo, copiando un'esperienza pilota già fatta a Londra. vanno in scena a teatro, la vita di medici, di infermieri, di assistenti a vario titolo e hanno partecipato a questo esperimento in 90 per 50 ore di laboratorio teatrale durato due anni. L'effetto burnout si è ridotto del 30%, cinzia a 10 anni. Sono medici, studenti, infermieri, psicologi e assistenti sociali e questo gioco di statue è una tecnica teatrale che può aiutarli a non scoppiare. Le professioni di aiuto sono le più soggette al rischio burnout, la sindrome che colpisce chi si prende cura ogni giorno di persone malate o sofferenti. Ex infermiera in un pronto soccorso, anche Paola ha rischiato il crollo. Una sorta di apatia totale, quindi un'incapacità di reagire di fronte a un qualsiasi tipo di stimolo. Un carico di sofferenza più difficile da gestire quando la crisi economica taglia personale e risorse, aumenta le responsabilità e impone turni di lavoro massacranti. Il burnout è un costo per la sanità, perché le persone sono assenti, perché c'è più contenzioso medico legale e quindi è un grave problema in crescita molto significativa. Come dimostrano una pratica consolidata e alcuni studi internazionali, un aiuto può venire dal teatro. Mettere in scena e condividere dubbi e paure aiuta a ritrovare il benessere e stabilire relazioni più equilibrate ed efficaci con pazienti e colleghi, come ricorda Susie Wilson, che da dieci anni lavora con i futuri medici. No! Io penso che molti operatori sanitari non siano preparati in merito alla loro stessa fisicità. Passano un mucchio di tempo a occuparsi del corpo dei malati, ma non del loro. Eppure prendersi cura della salute altrui è uno dei lavori che richiedono maggior impegno fisico. In questo l'arte può aiutarli. Questo tipo di tecnica serve moltissimo perché ti può far riemergere, andare anche a riscoprire quali possono essere le risorse interiori e rinascere. È tutto, noi ci rivediamo domani, sempre 3-10, sempre Rai 3, buon pomeriggio. Grazie per essere stati con noi. Grazie per aver guardato il video.